Musica Benvenuti a questa nuova edizione del Tg oristanese di Aristanisi TV. Anche a Oristano nascono i comitati di quartiere, lo ha deliberato il Consiglio Comunale, su proposta del consigliere Efisio Sanna. Sentiamo il servizio. Il Consiglio Comunale di Oristano ha approvato la mozione della sinistra illustrata da Efisio Sanna, che prevede la istituzione dei comitati di quartiere nelle frazioni e borgate del capoluogo. Passaggio politico importante e delicato da sempre, cavallo di battaglia di questo schieramento politico che lo vede come un atto di decentramento democratico destinato a dare voce alle diverse comunità e a determinare forme di autogoverno nell'ambito di quelle che sono le norme che regolano e disciplinano la vita e la conduzione degli enti locali. I lavori del Consiglio Comunale proseguono con la seduta di giovedì pomeriggio, dove in prima battuta la discussione riguarda la mozione presentata dalla seconda commissione consigliare permanente, che chiede la istituzione di un tavolo di coordinamento degli eventi sportivi, culturali e di spettacolo, competenze ora in capo agli assessori Torio Franceschi dell'Udc e Luca Faeda di Forza Italia. Per il resto, tranne i due punti finali riguardanti una variazione di bilancio e la riacquisizione al patrimonio dell'ente dell'ex convento della Maddalena di Sili. Gli altri dieci punti sono interrogazioni e interpellanze presentati dai gruppi del centro-sinistra e, come si è già riferito, riguardano posizionamento di fioriere lungo le strade cittadine, le pagine istituzionali Facebook e Instagram del Comune, la mancata programmazione del cinema d'estate, il degrado di Vico Arcais, la chiusura del campo di basket, l'incendio avvenuto a Torregrande il 18 giugno scorso. La provincia di Udistano avrà un nuovo commissario. Il dottor Massimo Torrente sarà sostituito dal dottor Battistino Ghisu, nominato con delibera del 19 settembre dalla Giunta regionale. Nato nel 1964 e laureato in scienze politiche, Ghisu lavora presso la regione dal 1991 ed ha già ricoperto il ruolo di commissario presso il Consorzio di Bonifica. La lingua blu non si ferma nell'uristanese. In sette giorni il dato statistico vede un più 115% di capi morti tutta la provincia di Udistano, zona di circolazione virale. Vediamo. L'emergenza della lingua blu ha messo alla stretta l'andamento delle aziende agricole. Negli ultimi sette giorni i capi morti sono passati da 536 a 1136 con un incremento del 115%. Gli ovini contagiati da 6.294 a 10.970 con un aumento del 75% e i focolai sono lievitati da 253 a 415 più 64%. Possiamo forse parlare di una delle diffusioni peggiori del virus della blu tong negli ultimi vent'anni. Ha spiegato il dottor Enrico Vacca, direttore del servizio di salità animale dell'ASL 5 di Udistano. L'indice di mortalità, cresciuto dallo 0,5 allo 0,7% si mantiene basso, ma purtroppo nelle aziende si registrano perdite importanti dal punto di vista economico. Centinaia di aborti e non dimentichiamoci che proprio dai parti dipende poi la produzione del latte nei capi ovini. Da tutto l'oristanese le movimentazioni di animali della specie ovina, caprine, bovina, da vita verso le zone non interessate dalla circolazione virale, devono essere concordate con i servizi veterinari di partenza e destinazione con prenotifica o nulla ostag di almeno 48 ore e le stesse movimentazioni sono subordinate al rispetto di alcune misure di riduzione del rischio. Sabato 14 settembre a Marrubio i carabinieri e l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo hanno commemorato il 42esimo anniversario dell'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. Dalla Chiesa, attivo nella lotta contro le mafie e il terrorismo negli anni 70, ha ricordato per le sue operazioni contro Cosa Nostra e le Brigatte Rosse. La sua morte ha segnato un punto di svolta nella lotta antimafia, influenzando l'adozione di leggi a tutela dei diritti dei cittadini. La Capitaneria di Porto di Oristano ha bloccato una nave mercantile a causa di una serie di irregolarità. I dettagli li sentiamo nel servizio di Laura Marchi. Il personale della Capitaneria di Porto di Oristano ha fermato una nave mercantile di 112 metri, battente bandiera delle isole Marshall, arrivata nel porto il 17 settembre per attività commerciali. Durante l'ispezione sono state riscontrate significative irregolarità nei dispositivi di emergenza antincendio, con un totale di 17 nonconformità, 10 delle quali hanno portato al fermo della nave. La nave non potrà quindi riprendere il mare, sino a che non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza a bordo, e solamente dopo che la stessa sarà nuovamente ispezionata con un esito favorevole. Le ispezioni continuano regolarmente per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge e disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, che sarà trasmesso al più presto al Consiglio regionale per iniziare il suo iter. La Sardegna si legge in una nota della Presidenza e la prima regione d'Italia a proporre una legge sulle aree idonee con circa tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal Governo. Siamo orgogliosi di aver presentato un modello virtuoso di transizione ecologica basato sullo sviluppo sostenibile e sulla tutela dell'ambiente, sul rispetto del suolo del paesaggio, dei territori e dei cittadini sardi. Confartigianato, i vertici di Confartigianato Sardegna sottolineano l'importanza di investire nelle competenze dei lavoratori per migliorare l'efficienza e la produttività. Sentiamo il servizio di Laura Marchi. Le imprese sarde investono nella formazione, ma il 42% della manodopera necessaria è mancante. I vertici di Confartigianato Sardegna sottolineano l'importanza di investire nelle competenze dei lavoratori per migliorare l'efficienza e la produttività. Nel 2023-2304 piccole e medie imprese in Sardegna hanno coinvolto circa 33.500 lavoratori, spendendo oltre 32 migliori di euro in attività formative. Tuttavia la Sardegna si posiziona all'ultimo posto per investimenti pro capite, con una spesa media di 466 euro per dipendente. La scarsità di lavoratori qualificati è il problema più grave per il 58,1% delle piccole e medie imprese sarde. Meloni e Serra affermano che è imperativo investire nella formazione, poiché la mancanza di personale qualificato ha causato perdite economiche significative. La formazione continua è essenziale per le piccole e medie imprese per rimanere competitive. Il 42% delle imprese non riesce a trovare il personale adeguatamente formato ed è corrispondente a 64.000 posti vaganti di lavoro. Sono aperti i termini per presentare le domande relative al programma regionale dopo di noi per l'assistenza a persone con disabilità grave senza supporto familiare. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 4 ottobre 2024. L'iniziativa mira a promuovere progetti e servizi che favoriscano la vita indipendente e soluzioni abitative autonome per persone con disabilità gravi. Si è concluso positivamente il progetto Sinis Sentinel, fortemente voluto dal Comune di Cavras in collaborazione con Lega Ambiente. Abbiamo sentito ai nostri microfoni il responsabile del progetto Cesare Agostini e il sindaco di Cavras, Andrea Abis. Sentiamo. Siamo con Cesare Agostini che è il responsabile del progetto Sinis Sentinel voluto dall'area marina protetta per questa estate 2024 che sta andando a chiudersi. Gli chiediamo com'è andata. Il progetto è andato benissimo. Facciamo un primo riscontro numerico. Abbiamo coinvolto, grazie a Lega Ambiente che è partena del progetto, 105 volontari provenienti da tutta Italia che hanno deciso di donare gran parte delle proprie ferie ad un'attività di volontariato e di sensibilizzazione a tutela di questo territorio. In particolare abbiamo curato la sensibilizzazione contro il trasporto attivo, quindi furti di sabbia di quarzo nelle spiagge del Sinis ed inoltre abbiamo dato alcune indicazioni e informazioni soprattutto all'utenza e spiaggia su quelle che sono le regole di buona condotta sia di tipo ambientale che di tipo sociale. Diveto di fumo in spiaggia ed ancora invito alla raccolta differenziata negli appositi contenitori presenti nelle aree in ogni spiaggia del Sinis. Quindi se c'è questa necessità, è emersa questa necessità e in qualche modo anche criticità vuol dire che le persone vanno ancora educate, l'educazione ambientale non cessa? I processi di educazione ambientale richiedono in generale molto tempo. In realtà già dal nostro primo anno di presenza i numeri sono in costante discesa. Ad esempio la quantità di cigarete che vengono lasciate non tanto in spiaggia ma nelle aree adibito al fumo è sensibilmente diminuito dal nostro primo anno. Quest'anno abbiamo raccolto circa 45 litri e bene o male nel primo anno siamo sulla settantina. Quindi da un numero di 25.000 cilie stimate quest'anno siamo passati circa 15.000. Operativamente a come vi siete mostri? Siete proprio andati nelle spiagge parlando persona con persona? Allora noi abbiamo dei turni di lavoro, ci muoviamo molto presto al mattino, incominciamo a fare una pulizia della spiaggia, poi incontriamo i primi utenti della spiaggia laddove c'è qualche situazione critica, quindi una persona che fuma oppure eventualmente una persona che lascia il proprio rifiuto noi interveniamo in modalità molto gentile e gli facciamo comprendere il senso quindi ci fermiamo laddove c'è necessità. Poi c'è un secondo livello che attiene alle forze dell'ordine, agli agenti di polizia locale o ai baracelli o al servizio di polizia rurale. Hai parlato di formazione, quindi io lo associerei forse anche a un fattore culturale, manca forse in molti la cultura del rispetto. Ecco, l'ecologia, noi parliamo di ecologia in senso lato, ma l'ecologia è interiore. Ecco perché io insisto nel parlare con le persone, perché quel divieto, quella regola, quel principio va interiorizzato in senso interiore, allora se siamo puliti dentro lo siamo anche fuori. Signor Sindaco, il Comune di Cabras sta adottando nuove strategie e iniziative in collaborazione con Lega Ambiente per promuovere l'educazione ambientale tra i turisti e i locali nelle spiagge del Sinis. Come queste attività possono contribuire alla conservazione dell'ecosistema dell'ambiente? Ma in un modo formidabile che si chiama educazione. Riuscire a incidere nell'aspetto culturale delle persone, fare in modo che le persone pensino in termini etici rispetto al fatto che le cicche non vanno abbandonate in spiaggia, rispetto al fatto che se incontriamo un rifiuto è bene raccoglierlo. Di fatto la prosecuzione di questo progetto in termini così positivi, così efficaci, realizza tante funzioni, non solo quella etica ambientale, ma anche quella di uno scambio culturale. Diciamo così detto una battuta, questo è soltanto l'inizio, anche se poi già qualche anno si sta portando avanti il progetto, ma ormai con Lega Ambiente si continuerà a lavorare per molti anni ancora qua. Sì, è il nostro auspicio, io credo che sarà così perché i rapporti sono ottimi, eccellenti e siamo riusciti a mettere in piedi un sistema molto proficuo per entrambi gli enti, quindi insieme riusciamo a realizzare questa fascia di progetto che è davvero importante. Dal 21 settembre al 13 ottobre la seconda edizione di Italia Romanica, in quattro legioni, quattro weekend all'insegna della cultura. Sentiamo il nostro servizio. Dal 21 settembre al 13 ottobre prende corpo la seconda edizione di Italia Romanica, il progetto ideato dall'ente Capufila, la Fondazione Sardegna e Isola del Romanico, che già nella prima edizione ha visto la partecipazione della Siciliana, le vie dei tesori, e la Lombarda Fondazione Lemine. Tra le novità di quest'anno spicca la partecipazione dell'Associazione Piemontese in Collina. In tutta Italia saranno oltre 100 le chiese romaniche che apriranno le loro porte ai cittadini, che potranno visitare gratuitamente i siti. In Sardegna saranno circa 70, in Sicilia oltre 10, in Lombardia 20, in Piemonte saranno 26. La Rete d'Italia Romanica si amplia ad una nuova regione ricca di romanico, ha affermato Antonello Figus, presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Cresce il numero dei siti che partecipano a quest'evento nazionale e l'auspicio per il 2025 è quello di vedere altre regioni far parte del nostro percorso che punta alla valorizzazione del romanico italiano. Anche in Sardegna la Fondazione Cresce e dai 88 comuni soci altri tre comuni hanno manifestato la volontà di aderire alla Rete Sarda. A ottobre Italia Romanica sarà protagonista sabato 5 e domenica 6 con apertura a Cavras, Ghilarza, Solarussa, Tramazza e Zediani. Il Comune e la Biblioteca di Seneghe presentano il nuovo servizio di prestito a domicilio gratuito La Biblioteca viene da te, che sarà rivolto a tutti coloro che hanno difficoltà, anche temporanea, a recarsi in biblioteca. Il servizio sarà attivato da venerdì 20 settembre fino al 30 novembre 2024. Per richiedere il materiale si dovrà contattare la biblioteca tramite mail o per telefono durante l'orario di apertura si potrà scegliere un libro e decidere sulla data e l'orario di consegna dello stesso. Questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS